Fondazione Comunità del Novarese Onlus crea il Fondo Emergenza Ucraina, una speciale raccolta fondi per i profughi che stanno fuggendo dalla guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina. Si tratta di un contenitore dove indirizzare le donazioni che andranno a sostenere i progetti di accoglienza, con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto e urgente a tutti coloro che sono stati costretti improvvisamente a lasciare la propria casa, le proprie abitudini e le proprie relazioni e che stanno cercando un rifugio nei paesi dell'Unione Europea. La raccolta fondi è destinata a sostenere le spese legate all'accoglienza, con l'obiettivo di una sistemazione rapida dei profughi secondo un modello di accoglienza diffusa che punti all'inserimento di piccoli gruppi nella vita ordinaria delle comunità e faciliti così l'integrazione in collaborazione con la rete di accoglienza Caritas Diocesi di Novara ed altri enti ed associazioni sul territorio. È possibile effettuare una donazione tramite bollettino postale, banco posta o conto Paypal, tutto intestato a Fondazione Comunità del Novarese Onlus. L'importante è specificare nella causale Fondo Emergenza Ucraina. Tutte le informazioni le potete trovare su Sniper Web TV, nell'articolo che abbiamo dedicato alla raccolta fondi.